Ciao YouTube e benvenuti nel laboratorio segreto della ricercatrice Pixel Kiwi. In questo video parleremo di tutti i virus appartenenti alla saga videoludica di Resident Evil. Il video è diviso in due parti, già ve lo dico. Questo video qua parlerà solamente dei virus e invece alla fine del prossimo mese avrete i parassiti e i funghi, perché c'è un po' da parlare, quindi ho preferito dividerlo in due, quindi non perdetevi anche il prossimo video. E per non perdervelo, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un mi piace e un commento, mi raccomando. Bene, detto questo direi che possiamo iniziare con lo spiegarvi come funzionano tutti i vari virus tramite appunto le mie famosissime ricerche scritte in questo libro segreto. Prima di iniziare però un piccolo chiarimento su cos'è un virus. In modo molto generale, virus deriva dalla parola veleno in latino. Nello specifico un virus e un microorganismo unicellulare, quindi composto da una sola cellula, non in grado di vivere autonomamente. Hanno quindi bisogno di infettare un organismo superiore in modo tale da ottenere l'apparato metabolico e riprodursi. La particella virale è chiamata virione ed è composta da tre parti principali. Prima di tutto è composto da un genoma, che sarebbe la parte centrale, composto da acido nucleico, quindi o DNA o rRNA, e contiene ovviamente l'informazione genetica. Poi esternamente è composto da un capside, che sarebbe l'involucro proteico, che poi dà anche la forma al virus. E infine abbiamo il pericapside, che sarebbe una struttura facoltativa che riveste sempre il capside. Ora, sapendo ciò, sappiamo un po' come è fatto un virus generale, ma adesso entriamo proprio nello specifico dei virus della saga videoludica. Ovviamente dobbiamo iniziare con il virus progenitor, ovvero il virus chiamato virus madre, ovvero colui che ha dato inizio a tutti gli altri virus della saga. Nella regione del Kijuju, nell'Africa occidentale, viene scoperto un fiore chiamato Stairway to the Sun. Questo fiore in particolare era portatore di un virus che donava incredibile intelligenza e forza in questo virus estratto prenderà il nome appunto di progenitor o progenitore, come preferite in italiano e in inglese. Questo virus venne analizzato per la prima volta negli anni 60 da Lord Edward Ashford, Lord Oswell E. Spencer e il dottor James Marcus. Questo virus aveva una bassissima compatibilità con l'organismo, ma riusciva ad infettare qualsiasi forma di vita, pianta, batterio, animale, tutto. Il virus è veramente molto antico, infatti si pensa che nacque proprio quando nacque la Terra. A causa di ciò, inizialmente, ok, nelle prime forme di vita era più compatibile e riusciva a fare effetti positivi negli organismi antichi. Con andare avanti del tempo, quindi cambiando, con l'evoluzione, l'organismo umano si indebolì molto di più negli anni, così da non essere più compatibile con questo virus altamente letale. Infatti, le rapide trasformazioni del virus portavano a una rottura delle cellule, causando una grave necrosi. Però nel caso in cui il soggetto fosse riuscito a sopravvivere a queste mutazioni, riuscirebbe però a sopravvivere in uno stato molto indebolito. E per sopravvivere, il metabolismo accelerava di molto e aveva bisogno di mangiare carne ricca di proteine, quindi andare appunto a mangiare altri esseri viventi. E proprio questa mutazione viene chiamata zombie. Infatti, gli zombie nascono proprio dal virus progenitor, non dal virus T, come si pensa erroneamente. Il progenitor è solamente compatibile con persone che condividevano uno speciale patrimonio genetico. Un patrimonio genetico unico in grado di produrre degli anticorpi che riuscissero a diminuire la letalità del virus. Questa tipologia di persone in grado di produrre questi anticorpi venivano chiamati umani progenitori. Infatti, gli umani progenitori erano proprio in grado di ottenere un grado di immortalità biologica. Ottenevano infatti forza, resistenza, velocità, riflessi, guarigione molto migliorate. Inoltre, gli umani progenitori riuscivano a mantenere la loro forma umanoide. L'unica cosa che cambiava in loro erano gli occhi. Infatti, gli occhi prendevano la forma simile a quella dei rettili, di colore rossastro, e erano dotati di bioluminescenza nel caso in cui avrebbero sperimentato una forte emozione. Se avete pensato a Wesker, sì, funziona un po' come Wesker, anche se Wesker non è proprio virus progenitore puro, ma ne parleremo dopo di Wesker. Il virus progenitor, inoltre, ha un sacco di effetti secondari che potremmo poi notarli nei successivi virus. Tra questi già citati abbiamo appunto la necrosi, l'alto metabolismo, aggressività, sensazione di prurito e febbre, aumento delle dimensioni, poi escrescenze del bulbo oculare. Queste qui, in particolare, le vedremo più nel virus G. Poi derivano, per esempio, anche il grave danno celebrale, gli artigli. Ci sarà anche un cambiamento della fertilità. Per esempio, gli artropodi diventeranno molto più fertili, mentre invece i mammiferi diventeranno completamente sterili. Poi occhi rossi, ma non gli occhi rossi, per esempio quello di Wesker, ma occhi rossi dovuto allo scoppiamento dei vasi sanguigni. Poi ci sarà un'espansione del cuore, che potremmo vedere anche verso l'esterno. E infine la risposta autoimmune, ovvero il corpo cercherà di produrre degli anticorpi per combattere il virus, però facendo ciò si danneggerà da solo. Questo porterà all'annerimento di vene o ingrossamento sempre delle vene. Facendo un passignetto, però, vi ho parlato del fatto che venne studiato negli anni Sessanta da tre ricercatori. Bene, nonostante questi tre avessero degli obiettivi diversi, chi voleva aiutare i disabili, chi voleva conquistare il mondo creando una razza superiore, avevano bisogno di soldi per portare avanti il loro studio. Dovevano finanziare il loro studio. Quindi decisero di creare un laboratorio in Africa in grado di mantenere nelle perfette condizioni climatiche e del suolo il fiore. E inoltre, ovviamente, fondarono la famosissima azienda farmaceutica dell'Umbrella Corporation. Quindi tre, una volta fondato questo laboratorio e la loro Umbrella Corporation, decisero di iniziare a creare e sperimentare con il virus per creare delle armi biologiche, anche dette B.O.W., da vendere al governo e finanziare ovviamente il loro progetto. Il virus progenitor però presenta tre principali varianti. Il primo è il tipo A. Questo tipo A venne creato ovviamente sempre con l'intento di creare un virus con una letalità minore e che possa essere ospitato da più organismi. Questo ceppo venne somministrato nel 1967 a Jessica Trevor, ma fu un enorme fallimento che portò alla morte della cavia. Poi abbiamo invece il tipo B, che è una variante del tipo A e venne somministrato alla figlia di Jessica Trevor, ovvero Lisa Trevor. Nonostante il grave danno celebrale e il grave danno ai tessuti cellulari, incredibilmente il tipo B riuscì a tenere in vita Lisa Trevor. Questo esperimento quindi ebbe abbastanza successo. Infine abbiamo il P30, che è una sostanza chimica modificata sintetizzata sempre dal virus progenitor. Questa sostanza rende il soggetto resistente al controllo e gli conferisce delle abilità sovraumane, però comporta un piccolo squilibrio ormonale all'interno dell'ospite, aumentandone appunto il metabolismo. Questo caso lo vediamo in particolare in Jill Valentine di Resident Evil 5, che appunto aveva questa specie di cuore rosso al centro del petto. I benefici del P30 sono temporanei e se provassimo a estrarlo dal sistema circolatorio non avremmo alcun effetto collaterale. Bene, ora passiamo al virus T. Infatti il virus T è il primo virus creato, derivante dal virus progenitore, per creare delle armi biologiche. Il virus T in particolare prevedeva tre fasi concettualizzate. La prima era la creazione di un virus ideale, la seconda era la stabilizzazione del virus, e ovviamente la terza la produzione di armi biologiche. L'origine risale al 1977. In quest'anno, infatti, il dottor James Marcus creò la base per la creazione del virus T, iniettando il virus progenitor all'interno delle sanguisughe. Le sanguisughe infatti funzionavano un po' come il fiore che conteneva il virus progenitor. Infatti queste qui erano estremamente resistenti agli effetti del virus e riuscivano ad adattarsi e a mutare. Questa prima mutazione in particolare è chiamata T. Marcus. Il T. Marcus era abbastanza debole da riuscire ad infettare altri ospiti come gli esseri umani. Infatti, grazie al T. Marcus vennero create le prime armi biologiche, ovvero i famosissimi zombie. Oswald E. Spencer però non era felice di questo esperimento e quindi, ironicamente, chiese ai suoi due più fidati studenti, William Birkin e Albert Wesker, di recuperare il T. Marcus e distruggerlo. Ah, dovevano anche sbarazzarsi di Marcus, ovvero dovevano anche uccidere lui. Infatti, è ciò che fecero. Uccisero Marcus, rubarono il T. Marcus, ma decisero di non distruggerlo. I due, infatti, unirono il virus di Marcus al virus Ebola, di cui erano incredibilmente affascinati. I geni del virus Ebola, in particolare, servivano a rendere il virus T molto meno letale, con una minore probabilità di risposta immunitaria. Ora, qui, seguitemi bene perché ci sono un po' di passaggi. Iniettando questo nuovo virus all'interno dei ranni, crearono il T. Clay Alpha. Alpha venne utilizzato per creare sia i Neptun, sia i Web Spider. L'Alpha viene iniettato anche nei cani, creando i Cerberus, di cui ovviamente ho un esemplare anche nel mio laboratorio, e la creazione del ceppo Beta, che venne estratta dai Cerberus. Il ceppo Beta venne nuovamente modificato per creare il Beta 2. Questo aveva una maggiore manipolazione genetica, e grazie sempre a questo vennero creati gli Hunter. Ora, siamo circa nel 1998, e il virus aveva praticamente raggiunto un livello di perfezione. Ma venne creato un altro ceppo, il ceppo Epsilon. Con questo ceppo Epsilon vennero creati i primi due Tyrant, lo T001 e T002. I Tyrant sono dei soldati potenziati in grado di eseguire gli ordini. Appunto, con la creazione di questi due Tyrant, venne ufficialmente annunciato la creazione del virus T Tyrant. Però ci furono altre mutazioni. Dopo l'incidente della Villa Spencer, però, il virus T mutò di nuovo, portando la creazione di un nuovo ceppo Epsilon. Infatti, gli zombie infetti da questo nuovo ceppo Epsilon, tramite il processo del V-Act, verranno creati i Crimson Head. Il V-Act sarebbe il processo di trasformazione del virus T, che porta gli zombie sotto quattro fasi principali di mutazione, ovvero zombie, Crimson Head, Suspended e Leaker. Birkin riuscì a estrarre questo ceppo per creare il T-Birkin. Questo virus era in grado di donare incredibili capacità regenerative. Oltre al T-Birkin, venne scoperto anche il T-Wesker. Del T-Wesker comunque ne parleremo un pochino più avanti nel video, perché appunto ci servirà per dopo, quando parleremo del progetto Wesker. Gli effetti principali del virus T derivano per lo più dal virus progenitore. In generale però il virus T rende l'ospite molto più resistente, in uno stato furioso e un grave danno celebrale. Sempre dal virus progenitore viene presa anche la necrosi e l'infertilità. Negli animali invece le mutazioni sempre prese dal virus progenitore sono l'aumento delle dimensioni, una maggiore aggressività, maggiore forza e vitalità e la mancanza della paura. Il virus inoltre causa infiammazione, uno scolorimento della pelle e un ingrossamento delle vene. In più il virus T ha la capacità di curare le malattie terminali, come per esempio il cancro. Il virus T infine è estremamente contagioso, infatti ha un tasso di infezione del 90%. Nonostante questo però Lord E. Spencer non era soddisfatto, lui voleva un tasso del 100%. L'infezione comunque può avvenire tramite iniezione, tramite acqua, tramite trasmissione fluidica diretta oppure disperso nell'aria. Per trattare invece questo virus esistono tre principali trattamenti. La terapia antiretrovirale, detta ART, la terapia con gli anticorpi o vaccinazione. Passiamo ora al prossimo virus, il virus G. Prima di capire però la creazione del virus G dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Tornando a Lisa Trevor, infettata col tipo B del virus progenitor. Infatti come citato prima, Lisa riuscì in parte ad adattarsi al virus progenitor. E proprio per questo motivo, dato che riuscì a rimanere in vita nonostante i danni celebrali e cellulari, la sua vitalità era così forte che venne definita praticamente immortale. Ora qui dobbiamo fare un altro passo indietro nel 1988 in cui veniva creato il parassita Nemesis. Questo parassita era un organismo artificiale creato con il tentativo di controllare le B.O.W. instabili. Di questo parassita però in particolare ne parleremo nel prossimo video, del prossimo mese, in cui parlerò appunto sia di parassiti che delle muffe. Qua ve l'ho solamente citato per farvi capire cos'è, però nello specifico ne parleremo nel prossimo video. Quindi iscrivetevi, mi raccomando, di nuovo. Birkin ottenne un campione di questo parassita Nemesis e lo iniettò in Lisa Trevor. Lisa incredibilmente riuscì ad assorbire anche questo virus. Lisa viene quindi definito un esemplare unico nel suo genere perché appunto nel suo organismo erano presenti più virus e era riuscita ad assorbire completamente. E nelle cellule di Lisa in particolare venne rivelata la prima forma del virus G. Il virus G, infatti, a differenza del virus T, riesce a mutare e a creare una nuova forma di vita. Il virus G quindi come funziona? Dopo la diffusione nel corpo vengono create gradualmente delle cellule G. Il virus fa sì che le cellule G riescano a riprodursi e si diffondano come un cancro, consumando tutte le cellule originali. L'infezione inizia nel punto in cui il virus viene iniettato e questo però comporta a una mutazione asimmetrica, come abbiamo visto nel caso di William Birkin. Il virus G inoltre porta alla rigenerazione delle ferite, provocando una riscrittura del DNA e portare a nuove mutazioni. Inoltre il virus sarebbe in grado di mantenere sia ricordi che la personalità del cervello. Questo si pensa grazie alle memorie genetiche. Un'altra caratteristica del Golgotha è lo sviluppo di bulbi oculari funzionanti in parti casuali del corpo. Una piccola curiosità, se il virus viene iniettato all'interno di un cadavere, verranno creati i G-zombi. Come il virus T, il virus G riesce ad infettare qualsiasi organismo. Per esempio negli animali, come nel virus T, il virus G porterà a un aumento delle dimensioni e una maggiore aggressività. Però per esempio nei cani, nel caso del G-dog, G-cane, vengono create nuove teste e nuovi arti. Il virus G viene trasmesso in due modi. Il primo è tramite ovviamente l'iniezione, invece il secondo è tramite l'impianto di embrioni G. Gli embrioni G sono organismi prodotti naturalmente da mutanti G. E vengono forzati nel corpo tramite impianto orale. È presente però un'anomalia degna di nota, in particolare in Sherry Birkin. Infatti lei era un ospite geneticamente compatibile. Ma dopo l'impianto venne vaccinata praticamente subito. Grazie a ciò infatti non sviluppò gravi mutazioni, ma riuscì a mantenere le incredibili capacità rigenerative. Il trattamento contro il virus G è chiamato DEVIL, che viene sviluppato dal centro di ricerca NEST. Passiamo ora a uno dei miei virus più preferiti. Nei commenti scrivetemi anche voi qual è il vostro preferito, perché sono curiosa anche di sapere il vostro. Parliamo del virus T. Veronica. Il virus nasce nel 1981 da Alexia Ashford, che era il capo del centro di ricerca antartica dell'Umbrella. Fu lei appunto a creare il virus T. Veronica grazie alla sua ricerca sulle formiche regina. Lei quindi incorporò il virus progenitor con il gene di una formica regina, che secondo lei possedeva il potere di controllare tutti gli organismi in modo uniforme con dominio assoluto. Il primo esperimento lo fece su una pianta, infatti iniettò il virus T. Veronica in una pianta, ed ebbe incredibile successo, creando il formicaio chiamato il Bacello di Alexia. Da questa creazione venne estratto un altro gene e venne inserito anche questo nel T. Veronica. Questo nuovo virus, infatti, aveva delle incredibili proprietà riproduttive e riusciva ad espandersi senza limiti. Nel 1983 però fece il primo esperimento su una cavia umana e usò suo padre Alexander per questo esperimento. Venne usato lui sia per appunto per l'esperimento in sé, ma sia perché lei voleva vendicarsi del padre, perché scoprì che questo utilizzò parti del DNA della matriarca della famiglia Veronica per creare i due gemelli Alexa e Alfred Ashford. Tra parentesi Veronica era la matriarca della famiglia appunto dotata di un'incredibile intelligenza e bellezza. Il virus su Alexander fu un fallimento, infatti lo rese un mostro incontrollabile, distruggendo completamente il suo cervello e gran parte del tessuto esterno. Alexia, ovviamente, era dotata di un'intelligenza sovraumana derivante da Veronica e riuscì a capire che il virus di Veronica riusciva a fare effetto solamente a temperature bassissime e calcolò che ci volevano ben 15 anni per far in modo che il virus riuscì ad adeguarsi all'organismo. Il 27 dicembre 1983 quindi Alexia si iniettò il virus di Veronica e cadde in un sonno criogenico all'interno del laboratorio sotterraneo nella sua base in Antartica. Dopo il risveglio riuscì completamente ad assorbire il virus. E dato che Alexia è l'unico esemplare in grado di aver assimilato completamente il virus di Veronica, parleremo delle sue tre mutazioni in particolare per farvi capire un pochino come funziona. La prima fase manteneva ancora la sua forma umanoide, ma il suo corpo, tranne parte del suo viso, era ricoperto da una resistente fibra vegetale estremamente dura e resistente ai proiettili. Inoltre il suo sangue prendeva fuoco a contatto con l'aria. La seconda fase venne creata con la fusione con un baccello presente nei sotterranei dell'Antartica. In questa fase si trasformò in una fusione di una pianta e un insetto. In particolare della sua forma umanoide rimasero solamente la testa e il torso. Le braccia vennero sostituite da quattro arti simili a quelli di una mantide religiosa. La parte inferiore era diventata invece una gigantesca tuba di falloppio che produceva delle larve di formica. In questa fase non era in grado di muoversi, ma riusciva ad attaccare usando i tentacoli e le sue formiche soldato. Nella terza fase invece la parte superiore del corpo si stacca dalla tuba di falloppio e le braccia si trasformarono in delle ali ricordando una libellula. Anche in questa fase il sangue si trasforma in fuoco in contatto con l'aria e l'unico modo per distruggere questa creatura, e quindi il virus di Veronica, era tramite un fucile a ioni creata dal padre Alexander. Passiamo ora a un altro virus abbastanza interessante, ovvero il virus T più G. Questo virus infatti venne creato circa nel 1998 tramite la creazione del virus T più G, molto semplicemente. La prima variante, la 0.9.1, fu considerato un fallimento, data la sua bassa intelligenza e la sua instabilità nel formare abilità bioelettriche. La seconda versione, la 0.9.2, si pensava fosse più stabile, ma questa venne rubata dal bioterrorista Morpheus di Duval nel settembre del 2002. Morpheus venne costretto ad iniettarsi il virus dopo una ferita mortale causata da Bruce McGivern sulla Spencer Rain. Il T più G risultò compatibile con Morpheus di Duval, donandogli un'incredibile intelligenza e proprietà difensive bioelettriche. Infatti il virus portò a un ampliamento del campo elettromagnetico, creando un alto voltaggio in grado di respingere i proiettili. Il virus inoltre ne aumentò la forza e la velocità. L'unica arma in grado di distruggere questa mutazione è il fucile a particelle cariche. Però nel caso di Morpheus, dopo aver ricevuto così tanti danni da questo fucile, gli anticorpi del virus T cominciarono a degenerare, permettendo quindi al virus G di espandersi molto velocemente, creando una rapida crescita di massa corporea in Morpheus, rendendolo quindi in generale una massa in forme di carne. Dopo la morte il virus G continuerà a mutare all'interno del corpo fino ad esplodere. Prossimo virus, il virus T-Abyss. Nel 2004 un team di ricercatori dell'università di Montpellier scoprì che nella fossa delle Kermadec a 9000 metri di profondità esistevano una specie di pesce abissale che mostrava una grande mobilità, velocità e altre caratteristiche che lo rendevano troppo feroce rispetto ai pesci di quelle profondità. Si scoprì che appunto questi attributi erano dovuti a un patogeno presente nel suo organismo chiamato Abyss. Il virus Abyss in particolare si pensa che abbia più o meno la stessa origine del virus Progenitor. Infatti si pensa che il virus Abyss sia ciò che ha creato la vita negli oceani. L'Abyss trasforma il grasso e i liquidi corporei in muscoli e ossa molto resistenti, creando una struttura ad alta densità in grado di resistere a pressioni estreme. L'Abyss inoltre provoca una rapida metabolizzazione dei fluidi corporei dell'ospite. Inoltre il virus Abyss era in grado solamente di mutare le creature marine. Furono la FBC e la Tricel a creare il virus T-Abyss, creando un ceppo ibrido utilizzando il virus T e il virus Abyss per creare appunto il virus T-Abyss che fosse in grado di infettare qualsiasi organismo. Questo virus creato era in grado di creare delle armi biologiche molto più pratiche. Inoltre può anche produrre dei tratti di animali acquatici negli esseri umani, come il camuffamento, la bioelettrogenesi e creare illusioni. Gli ospiti infetti sviluppano comunemente l'abilità di respirare sia nell'aria sia nell'acqua e viene aumentata la loro adattabilità in combattimento. La diffusione avviene attraverso l'acqua e riesce a diffondersi ad una velocità estremamente rapida. Le cavie umane infettate dal virus T-Abyss vengono chiamate Ose. A causa dell'incredibile velocità di infezione, le cellule venivano completamente disintegrate e quindi si portava a una successiva morte, proprio come succedeva col virus Progenitor. Dopo alcune modifiche riuscirono a renderlo un pochino meno letale, ma comunque veniva compromessa l'integrità cellulare. Parliamo un po' di cosa succede quando il virus riesce ad essere assorbito nell'organismo. Infatti, quando il virus riesce ad infettare le cellule, la membrana cellulare inizia ad assorbire l'acqua in eccesso, provocando un rigonfiamento. Il tessuto del corpo inizia a dissolversi e a fondersi, ma la cavia rimane comunque in vita perché ha una maggiore vitalità. Il corpo inoltre subisce delle deformazioni gravi a causa della liquifazione delle ossa e della carne. Inoltre anche gli inamenti del viso e gli organi sessuali vengono completamente eliminati, prendendo quindi la forma di cadaveri gonfi e impregnati d'acqua. Il virus Abyss all'interno del virus T-Abyss comporta un eccessivo consumo di liquidi corporei, quindi a causa della disidratazione, gli ose andranno alla ricerca di altri organismi da cui risucchiare i loro liquidi corporei. Gli ose quindi assorbono dagli altri organismi i loro liquidi corporei attraverso la loro lingua. La lingua ovviamente si è adattata a fare ciò e prende la forma di un'anguilla lampreda. Mi fanno anche molto paura queste cose, perché guarda che... Le ossa liquifatte fuoriescono dall'estremità delle braccia, solidificandosi e creando delle armi affilate. Questo lo vediamo nel caso di ose pinchers e ose tricornes. Nel caso invece degli ose chunks, questi esploderanno a causa dell'eccessivo assorbimento d'acqua. Le donne sono molto meno compatibili con il virus T Abyss, ma abbiamo un esemplare con il caso di Rachel Foley. Quest'ultima è riuscita a mantenere sia la sua intelligenza che il suo controllo motorio. Nel suo caso il suo braccio destro riusciva ad aprirsi e la sua lingua mutata appariva da una seconda bocca sulla fronte. Si pensa che però la sua mutazione fosse casuale, ma forse c'entrava qualcosa al suo patrimonio genetico. Il vaccino per il virus T Abyss si chiama Prototype Vaccine. Passiamo inoltre a un altro virus veramente molto affascinante, ovvero il virus T Phobos. Anche nel caso del virus T Phobos dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel 1960. Ritorniamo un attimo a parlare del progetto Wesker. Infatti circa negli anni 60 vennero prese 13 cavi bambini per sottoporli a un esperimento per la creazione di superumani infettandoli con il virus sperimentale T Wesker. A questo esperimento su 13 solo due riuscirono a sopravvivere, Albert Wesker e Alex Wesker. Il T Wesker quindi ha permesso ad ospiti con geni eccellenti di ottenere delle abilità sovraumane. Nel caso in particolare di Alex, che sarà importante per il virus T Phobos, i suoi geni la resero compatibile con il virus e la permisero di farla sopravvivere, ma sviluppò una malattia terminale. Grazie alla sua sovraumana intelligenza riuscì ad ottenere un importante ruolo all'interno dell'Umbrella Corporation a fianco a Spencer. Fu proprio Spencer appunto da affidare ad Alex il compito di creare un virus che riuscisse a prolungare la vita di entrambi. Sempre parlando di Alex, è importante sapere che lei era ossessionata con il poeta Franz Kafka e in particolare con la sua esperienza con la paura. Infatti lei, a differenza di Albert, che quest'ultimo vedeva la superiorità nella genetica, lei invece pensava che si dimostrasse con il carattere e la volontà. Come per esempio nel caso di superare le proprie paure. Uno dei ricercatori di Alex riuscì a scoprire una mutazione del virus T. Questa mutazione era influenzata dalla noradrenalina, una sostanza che veniva rilasciata nel corpo dopo un'intensa paura. Lei quindi usò questo ceppo collegato alla sua ideologia, secondo cui la paura è ciò che governa le nostre vite, e che quindi il dominio sulla paura significherebbe il dominio totale sulla nostra vita. E cercò quindi di raggiungere l'immortalità tramite la paura. Quindi il ceppo mutante di T divenne la base per la creazione del virus T. Phobos, che Phobos ovviamente sta per paura. Il T. Phobos condivide tutte le caratteristiche del virus T, ma le differenze principali sono che il virus T. Phobos è molto meno virulento e inoltre rimane dormiente all'interno dell'ospite. Il virus infatti si attiva solamente se è in contatto con l'adrenalina e la noradrenalina, delle sostanze chimiche rilasciate dal cervello in risposta a un estremo stress. Una volta però innescata l'infezione, il virus porta a una mutazione eccessiva e alla rottura della struttura genetica dell'ospite. Se gli ospiti però provano paura e poi riescono a, in un breve periodo, a calmarsi, il virus riuscirà ad adattarsi e non provocare mutazioni. Gli ospiti invece che non si adattano mostrano un'eccessiva aggressività ed euforia, spesso manifestati con attacchi di risate. Il virus inoltre riesce ad adattarsi solamente negli uomini, invece nei bambini e nelle donne ha una compatibilità dello 0%. Gli osti infetti dal virus di Phobos sono divisi in particolare in quattro categorie, ovvero gli adattatori, i mutanti, gli afflitti e le B.O.W. Un esempio di adattatore lo vediamo in Natalia. Infatti lei riusciva a rivelare delle cose che gli altri non potevano grazie alle sue capacità sensoriali elevate acquisite. Gli adattatori non diventano superumani fino a quando non si verifica il V-Act. Si pensa che i superumani Phobos abbiano forza e capacità rigenerative altamente potenziati e si pensa che siano immortali. Un caso di mutante invece lo vediamo nel Monster Pedro. Infatti sono coloro che non riescono a controllare la loro paura e subiscono delle drammatiche mutazioni. Gli effetti sono per lo più casuali, ma in comune hanno l'aumento delle dimensioni e della massa muscolare, ma una degenerazione a livello cerebrale. Poi abbiamo gli afflitti che sono un po' simili agli zombie, ma sono molto più aggressivi e riescono a mantenere quella minima intelligenza per poter utilizzare delle armi, per scrivere e creare dei vestiti di pelle umana. Il nome afflitto deriva proprio dal fatto che in vita erano delle cavie umane sottoposte a gravissime torture su cui appunto Alex faceva gli esperimenti e venivano tenuti in condizioni veramente igieniche pessime nelle gabbie. Le uniche mutazioni visibili sono l'ingiallimento della pelle, il gonfiore e gli occhi di color rossastro. Gli afflitti inoltre hanno una maggiore vitalità rispetto agli zombie normali. Sono presenti anche delle variabili negli afflitti, come nel caso degli Iron Heads, che hanno subito delle mutazioni aumentando nelle dimensioni. E alcuni afflitti, a causa delle condizioni igieniche veramente pessime, come avevo detto prima, hanno sviluppato una specie di ciste gialla dovuta alla muffa presente in quegli ambienti. Alex, infine, lavorò alla creazione di armi biologiche sia col Tifobos sia con l'Uroboros dando origine a, per esempio, il GLASP, il Giant Whip Spider ed ORTROS. Secondo le mie ricerche, per il virus Tifobos non esiste un vaccino. Bene, passiamo al prossimo virus, ovvero il virus Uroboros. Uroboros è la variante di progenitor più potente e pericolosa e venne creata da Albert Wesker con l'aiuto della divisione farmaceutica Tricel in Africa. Per lo sviluppo di questo virus fu fondamentale Jill Valentine. Infatti lei, dopo essere stata infettata dall'emesis in Resident Evil 3, Carlos le diede una cura, che non eliminò completamente l'infezione, ma la lasciò in uno stato dormiente. Solo dopo essere caduta in un coma criogenico, riuscì a eliminare completamente il virus con i suoi potenti anticorpi. Dato che appunto Uroboros era estremamente letale, dato che appunto derivava dal virus progenitor, gli anticorpi di Jill servivano appunto a rendere più compatibile il virus con altri organismi. Uroboros divenne il passo più vicino per raggiungere l'immortalità. Il virus Uroboros prendeva il nome da Ouroboros, che sarebbe un simbolo arcano di un serpente che si divora la propria coda. Quindi rappresentava la natura ciclica dell'universo. Significava anche distruzione e rinascita. Se veniva somministrato ad un ospite vivo, Uroboros si adattava al DNA del soggetto e provocava sintomi iniziali come sudorazione, respirazione affannosa, delirio e confusione. Il virus si insediava nel genoma del soggetto e creava un nucleo esterno, circa di colore arancione-giallo. Questo nucleo aveva sia la funzione sensoriale che di cervello. Il virus inoltre estraeva i nutrienti interni del corpo, che servivano per creare delle cisti virali nere che si nutrivano di tessuto organico. Le pustole avevano circa una dimensione di un serpente e cominciavano a divorare il corpo dall'interno verso l'esterno, proprio come il serpente che divora la propria coda. Se il soggetto infetto avesse avuto un DNA superiore, le pustole riuscivano ad essere metabolizzate ed assorbite nel corpo. Una volta completamente assorbito, si sarebbe dato luce al cosiddetto umano Uroboros. E questa tipologia di umani sono caratterizzati da una sovrumana velocità, forza e rigenerazione. Riuscirebbero inoltre a rallentare l'invecchiamento, diventando praticamente immortali. Una caratteristica distintiva di un soggetto adattato era il cambiamento permanente della pigmentazione degli occhi. Infatti questi prenderebbero un colore giallo-rosso e le pupille diventeranno simili a quelle di un rettile. Gli occhi, inoltre, erano soggetti a bioluminescenza nel caso di una forte emozione, esattamente come il progenitor. Albert Wesker, nonostante fosse un soggetto compatibile, andò in overdose e non riuscì a fondersi completamente con l'Uroboros. La sua pelle, infatti, si annerì e le pustole li consumarono le braccia, ma riusciva comunque in parte a controllare queste pustole nere. Probabilmente se Wesker non fosse morto nel vulcano, sarebbe riuscito a stabilizzare il virus e sarebbe diventato un umano Uroboros. Però nel caso in cui Uroboros venisse iniettato in un soggetto con un patrimonio genetico inferiore, le cisti nere andrebbero fuori controllo, crescendo e moltiplicandosi rapidamente. La materia biologica infetta continuerà a sopravvivere come entità separata e continuerà a nutrirsi di biomateria sia morta che viva e potrà espandersi in modo illimitato. Queste creature in particolare avevano un'intelligenza molto limitata e l'unico modo per distruggerle era tramite l'eliminazione del nucleo principale. Se il virus invece veniva iniettato in un cadavere, non riuscirebbe a sviluppare delle cisti nere che gli consumerebbero il corpo, ma Uroboros riuscirebbe comunque ad insediarsi e a creare un nucleo. Riuscirebbe inoltre a riorganizzare il materiale organico e creerebbe una specie di marionetta molto aggressiva come nel caso dei Revenant. Uroboros è molto sensibile al calore, infatti il metodo più efficace per eliminare delle piccole masse è tramite l'incenerimento. Per i casi più estremi, come abbiamo visto nel caso di Uroboros aerei, venne creato un sistema di attacco laser chiamato Shango. Bene, siamo arrivati finalmente all'ultimo virus, ovvero il virus C crisalide. Il virus C venne creato da Carla Radames, una ricercatrice di armi biologiche agli ordini di Derek Simmons. Il virus venne creato tramite la modifica del virus T Veronica e il virus G. Questo virus viene diffuso in due forme principali. Una è tramite iniezione diretta e l'altra è tramite tossina aerodispersa. Nel primo caso verrebbero creati i cosiddetti Javo. Questi riuscirebbero a mantenere abbastanza intelligenza per eseguire ordini, guidare veicoli e usare le armi. Hanno inoltre una forza potenziata e particolari abilità rigenerative. Infatti, se una delle parti del corpo venisse danneggiata, il virus C tenterà di rigenerarla provocando una nuova mutazione. Questo ovviamente è dovuto grazie al virus G. Un esempio di questo caso lo possiamo vedere in Nogatrciange e Nogalett. In questi due casi, per esempio, possiamo notare l'influenza del virus T Veronica. Infatti, queste nuove mutazioni ricordano degli insetti. I Javo inoltre subiranno autocombustione una volta morti a causa dell'anomala elevata temperatura. Anche questo probabilmente derivato dal virus T Veronica. In alcuni casi, nel caso in cui prenderebbero troppe lesioni, il virus C si attiverà, mutando la pelle e creando una crisalide molto resistente. Il virus C crisalide prende il nome proprio da questa mutazione. All'interno del bozzolo il virus dissolverà il corpo e lo renderà un organismo completamente nuovo. Il secondo caso di infezione avviene tramite un gas particolare, rilasciato principalmente da l'epotica e Aos. Questo gas creerà degli zombie molto simili a quelli di virus T. Le differenze principali sono però che sono leggermente più intelligenti, dato che sono in grado di impugnare armi e utilizzare dispositivi semplici. Sono inoltre un pochino più resistenti, ma la differenza più importante sarà la mancanza di agenti infetti secondari. Ovvero, molto semplicemente, non possono trasformare in zombie altri organismi. Ma nel caso in cui un umano venga morso troppe volte da questo zombie di virus C, morirebbe per le lesioni e non per il virus in sé. Tramite gli anticorpi di Jake Mueller venne creata una versione definitiva del virus C, chiamata Supervirus C. Jake Mueller sarebbe il figlio di Wesker e ovviamente lui presentava un particolare patrimonio genetico. Infatti i suoi anticorpi servivano per donare all'organismo un'estrema resistenza, senza intaccarne però l'intelligenza. Con questa nuova versione del virus C, inoltre, veniva eliminata la necessità di uno stato crisalide. E l'ospite riusciva comunque a mutare nuove forme, senza compromettere la sua integrità cellulare. Gli esseri umani infetti da questo virus C potenziato riescono a mantenere in parte la loro forma umana originale, come nel caso di Pierce Nivans. Nel caso in cui però il sole del corpo è troppo danneggiata, come nel caso di Carla Radames, le mutazioni sarebbero istantanee e molto più drammatiche. Il fatto che l'intelligenza rimanga completamente intatta con questo virus è un miglioramento rispetto al virus G. Il vaccino è noto come anti-C e anche questo venne sviluppato tramite gli anticorpi di Jake Mueller. Bene, abbiamo finito con i virus, ma prima di andare via vi faccio un piccolo quiz per capire se avete capito la lezione di oggi. Ora qui vi farò vedere una serie di B.O.W. e voi dovrete cercare di indovinare a quale virus appartiene. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti quante ne avete indovinate, sono veramente molto curiosa. Bene, iniziamo con questo molto facile. Bene, questo qui è lo Ion e si riconosce molto facilmente a quale virus appartiene, ovvero il virus T, perché il virus T non cambia molto la forma base dell'organismo infetto e negli animali in particolare ne aumenta le dimensioni. Bene, poi abbiamo questo. Bene, questo qua è un Vulcan Blubber ed appartiene al virus T. Phobos. Più che altro lo riconosciamo per il fatto che ha delle lesioni sul corpo, quindi capiamo che apparteneva a una delle cavie di Alex Wesker. Ok, facciamolo un pochino più difficile. Questo qua è composto da due virus in particolare. Vediamo se riuscite a riconoscerli. Bene, questo qui ovviamente era Wesker trasformato e Wesker è composto da Uroboros. Uroboros è il più facile da riconoscere per le cisti nere, però Wesker era già infetto con il virus T Wesker, ovvero una variante del virus T. Bene, andiamo con il prossimo. Non fatevi ingannare. Bene, questo qui apparteneva al virus T. Abyss. È molto facile da riconoscere. Praticamente se vi sembra un pesce è T. Abyss. Facile. Passiamo al prossimo, che è questo qui è abbastanza semplice, dai. Bene, se non sapete di che c***o si tratta, se vedete un ammasso di roba che non capite, è virus G. Molto facilmente, ragazzi. Bene, passiamo all'ultimo. Spero che li abbiate indovinati tutti. Questo è il Lichman di Resident Evil Outbreak ed è composto da sanguisughe, quindi se noi pensiamo alle sanguisughe dobbiamo pensare subito a virus T. Quindi questo qui è virus T. Bene, chi è abbonato anche sul mio canale YouTube avrà un video in più, sempre sui quiz, questo quiz che abbiamo appena fatto, con altri 10 armi biologiche da indovinare. Se vi va per 99 centesimi vi vedete questo video in più per divertimento, comunque per capirne un pochino di più, se volete. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi se vi è piaciuto. Spero soprattutto che vi sia stato utile nel capire anche un pochino di più i virus, per capirne le differenze e la storia. Fatemi sapere se appunto vi sia stato effettivamente utile. Dalla ricercatrice Pixel Kiwi, quindi oggi è tutto. Ci vediamo il prossimo mese con il video su tutti i parassiti e i funghi, sempre di Resident Evil, mi raccomando non perdetevi anche quello lì. Ringrazio tantissimo anche gli abbonati su YouTube, io vi ringrazio davvero tantissimo per il supporto, ragazzi, grazie mille. Se vi va, seguitemi anche su Twitch, se vi va, sono in live lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, alle 21 a mezzanotte. Vi ringrazio tantissimo ancora per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!